ecco un altro posto strano e lontano questo è un cimitero familiare si vede però è abbandonato vedete qui veramente che si può dire che sono i vampiri vediamo se si riesce a vedere qualcosa vedete sono delle lapidi però non si può entrare è chiuso è chiuso perché può darsi che qualche vampiro scappa e quindi posso scappare qualche vampiro da qua certo ah ecco perché l'hanno chiusa con un palo di prassi l'hanno chiusa veramente è tutto vedete stiamo trovando dei posti in Puglia qua veramente che manco in Transilvania in Romania si trovano qua si chiamava Draculischi o Draculoschi guardate guardate non ciao 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 Grazie a tutti.